...concernente le misure per risolvere le attuali criticità nel sistema dei trasporti. Prego, Senatore Renzi. Grazie, Presidente. Signor Vicepresidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Noi sappiamo che il Ministro Salvini è molto attivo su tanti temi, anche nella sua veste di Segretario della Lega. Spesso attacca l'Europa, sta intervenendo sui temi politici di maggiore impegno, interesse, il terzo mandato, anche sull'IRPEF agricola, argomento sul quale, a differenza di altri, noi la pensiamo come lui, o meglio, lui la pensa come noi, visto che fortunatamente si sono accorti gli amici del Governo di aver sbagliato e sono tornati, anzi non ce l'hanno fatta, alle nostre leggi del 2016. Ma c'è un punto sul quale il Ministro lascia qualche preoccupazione, uno solo, diversi, ma uno in particolare. Noi abbiamo un'idea della situazione infrastrutturale molto preoccupata, perché i treni Frecciarossa, per chi li prende, hanno un ritardo, il 50% di circa 10 minuti come minimo, il 25% di più di 20 minuti. E non tutti possono permettersi il lusso, come ha fatto il Ministro dell'Agricoltura, di fermare a chiamata il Frecciarossa. Di solito chi è sul treno e prende ritardo deve aspettare che si arrivi alla stazione successiva. Tra l'altro stiamo aspettando, signor Ministro, anche la sua risposta a questa interrogazione. Però la domanda è, in questo scenario di difficoltà noi leggiamo che l'unica nostra fonte di salvezza è l'Europa, grazie al PNRR, ed è un po' un contrappasso che proprio il Ministero di Salvini sia quello che ha più soldi europei da spendere, perché se c'è uno in quest'Aula che ha sempre parlato male dell'Europa è proprio quello che riceve più soldi di tutti dall'Europa. Io sono uno di quelli che crede che l'Europa faccia bene, voi pensate che l'Europa faccia male, io penso che l'Europa ci salvi, voi pensate che l'Europa sia il problema, voi pensate che l'Europa debba essere guidata dal sovranismo, io dalla globalizzazione. Ma poco importa. Il punto politico è che ci sono 13 miliardi di euro e iniziano ad arrivare i ritardi non solo dei treni, ma anche dei cantieri. Leggo con preoccupazione notizie circa gli slittamenti dal PNRR ai fondi statali della Palermo-Catania, di alcuni lotti della Palermo-Catania e anche della Napoli-Avellino. E soprattutto, signor Ministro, leggo della preoccupata attenzione di autorevoli istituzioni circa il fatto che noi rischiamo di non spendere tutti quei soldi e che siamo in ritardo non solo con il Frecciarossa, ma siamo in ritardo anche con le opere del PNRR. Ora, anche un sovranista come lei vorrei chiedere se queste mie preoccupazioni sono eccessive, come mi auguro, e se il Governo e il Ministero, lavorando di concerto con l'Europa, può garantire che non perderà i denari delle infrastrutture così necessarie al futuro del nostro Paese, perché l'Europa fa bene e non fa male. Grazie, Senatore Renzi. Ora il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor Ministro. Ringrazio il Senatore Renzi perché mi permette di ricordare a chi è in quest'Aula, a chi è a casa, cosa in 15 mesi stiamo cercando di fare per recuperare decenni di mancati investimenti dei governi da lei presieduti e dei partiti di sinistra da lei presieduti. Quindi, è chiaro che in 15 mesi non recuperi 30 anni, però mi sembra che questa maggioranza, questo Governo e questa coalizione stiano dando un segno a partire dai 39 miliardi di euro che non l'Europa, ma gli italiani e tutti i cittadini europei ci hanno assegnato con il PRRR, sono assolutamente in linea con i tempi previsti per la spesa. Ovviamente i miei uffici qua mi hanno dettagliato tutti i numeri, le infrastrutture stradali, ANAS a 2.000 cantieri aperti, costanziamenti erogati per 3,4 miliardi per il 2022, eccetera, eccetera. Il nuovo contratto programma di ANAS che abbiamo perfezionato in questi giorni prevede 40 miliardi di euro di investimenti, di cui 32,7 per nuove opere e 4,7 per interventi in manutenzione. Per le infrastrutture ferroviarie sono in corso lavori sulla rete ferroviaria per 22 miliardi di euro e in termini di programmazione sono oltre 124 miliardi di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Ci sono 5 miliardi per le infrastrutture portuali. Stiamo lavorando al piano nazionale della logistica, al piano nazionale degli aeroporti. Per la prima volta nella storia stiamo lavorando a un piano sull'emergenza idrica per superare la continua emergenza. Abbiamo approvato un nuovo codice dei contratti pubblici che, a differenza di quello che ha approvato il suo governo, sta sbloccando energie, sta togliendo tempi persi alla burocrazia, sta permettendo ai sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, di lavorare più e meglio. Abbiamo fatto miracoli in questi 15 mesi? No. Però penso che abbiamo messo davanti l'Italia dei sì rispetto a quell'Italia dei no, che anche in queste ore si sta dimostrando unire PD, 5 Stelle e sinistre varie, quindi no alla TAV, no alla TAP, no al nucleare, no all'alta velocità, no al ponte, no, no e no. Io penso che questa maggioranza arriverà alla fine del suo mandato nel 2027, coesa e compatta, al di là di quello che scrive qualche giornale, lasciando un'Italia più veloce, più moderna, più sicura, più efficiente e in termini di alta velocità siamo intervenuti nella sua Firenze con il passante che permetterà di passare sotto la città e stiamo investendo non milioni, come ha fatto qualcuno prima di noi, ma miliardi di euro per rinnovare la flotta non dell'alta velocità, ma degli intercity, dei treni regionali, dei treni pendolari che prendono l'80% dei nostri cittadini. Quindi buon viaggio e buon lavoro a tutti. Grazie signor Ministro, direi che è doverosa la replica del senatore Renzi. Grazie Presidente, la ringrazio signor Ministro, la ringrazio per tanti motivi. Il primo perché l'ha detto che negli ultimi 30 anni ho governato io, non me ne ero accorto, lei è stato al governo più giorni di quanto sono stato io, ma soprattutto mi sembra ingeneroso e anche poco elegante il suo attacco al Presidente del Consiglio che ha governato più di tutti in questi ultimi anni, che si chiama Silvio Berlusconi e che rappresentava la maggioranza di cui anche ella faceva parte. Giusto perché lei si rivolge a quelli che stanno a casa, ricordo a un passante che lei nella scorsa legislatura ha governato su quattro anni e mezzo per tre anni e mezzo, soltanto un anno, siamo riusciti a mandarla a casa dopo la sua richiesta dei pieni poteri dal ruolo istituzionale del papete, ma in ogni caso negli altri tre anni e mezzo o come Ministro o come sostenitore lei era il governo. Veniamo però alla sostanza. Primo punto, evviva che ci sono degli investimenti. Sono investimenti peraltro in molti casi fatti proprio dal mio governo, a cominciare dalla Napoli-Bari e dalla Palermo-Catania. Purtroppo la mia preoccupazione non è sul fatto che questi investimenti ci siano, ma che si stia spostando la fonte del finanziamento dal PNRR, cioè dai fondi europei che hanno una scadenza più immediata, ai fondi statali non ci ha risposto. Lei ci dice che è la prima volta che c'è il piano idrico. Le ricordo che il governo Conte Salvini ha chiuso l'unità di missione sul dissesto idrogeologico, altro argomento del quale egli ha si dimenticato. Ma c'è un punto fondamentale che oggi Matteo Salvini ha fatto outing, cioè ha detto una cosa interessantissima. Oggi Matteo Salvini ha detto che finalmente si sta investendo, si sta investendo grazie all'Europa. Allora, anche il sovranista Salvini, che prima era contro l'Italia e poi tifa per l'Italia, prima era per la Padania, poi è diventato per il Paese Unito, anche il ministro Salvini ci lascia ben sperare, perché da anti-europeista convinto da qui al 2027 diventerà un europeista che crede nel fatto che l'unica vostra salvezza, gli unici che possono portare a casa la pelle di questo Paese e del governo sono proprio gli Stati Uniti d'Europa.